Salve, sono Antonella Dalmonte, sono un'educatrice professionale e ho fondato circa 4 anni fa un'associazione di promozione sociale che si occupa prevalentemente di attività assistite con gli animali e ho pensato di proporre, avendo esperienza con persone malate di Alzheimer, l'incontro con i coniglietti ed altri animali. Oggi vi parlerò dell'incontro con i coniglietti. I conigli sono animali molto particolari, ognuno di loro ha il proprio carattere, io ovviamente ho scelto quelli più idonei a incontrare le persone, persone con delle patologie molto particolari, quindi ci vogliono conigli equilibrati, tranquilli, sereni, che diano il senso di sicurezza. L'attività si svolgeva attraverso una serie di incontri regolarmente stabiliti, incontri settimanali, in cui gli animali andavano a trovare gli anziani di un centro Alzheimer. Ovviamente io mi ispiro alla zooantropologia, che tratta l'animale non come oggetto, bensì come soggetto, per attivare una relazione alla pari con l'essere umano. Questo mi piace molto, perché l'animale non è visto né come strumento, né tantomeno come utilizzo, per fini diversificati nei confronti dell'uomo. Bensì l'animale attiva una relazione alla pari con l'uomo solo se lo desidera, e quindi la relazione è molto più serena, spontanea, aperta. E questo lo percepiscono sia gli animali che gli stessi anziani. Rispetto a un cane o un gatto, il coniglio ha delle caratteristiche, delle peculiarità molto particolari, in quanto è un animale giocoso, sereno, tranquillo, che ama molto essere accarezzato. E per l'anziano, accarezzare un animale è molto importante, in quanto stabilisce la relazione attraverso il tatto. Il tatto che favorisce benessere, favorisce serenità e tranquillità. Non vorrei parlare solo di effetti terapeutici, perché l'animale non è una medicina. L'animale è un essere vivente che si pone in modo di alterità, come dice la zooantropologia, quindi è l'altro, è diverso da noi, e quindi l'incontro uomo e animale è un incontro che riprende i discorsi primordiali di spontaneità e di gioia.